Amici appassionati di tecnologia, oggi sono in compagnia della mia nuova cassa di Tronsmart, eccola qua la Bang SE. L'ho già messa qua a tracolla perché è una cassa portatile, vi voglio dimostrare che non è eccessivamente ingombrante a differenza della Max. Max che avete visto sul canale qualche tempo fa, una cassa gigantesca e pesante da 130 watt. Ma oggi parliamo di questa, della Bang SE che si porta meglio, che ha un'idea di più di portabilità, una leggerezza tutta diversa dalla precedente cassa mega gigante e offre una potenza massima di 40 watt. Oltretutto ha questi due occhietti che sono i driver di potenza, che sparano alla massima potenza, il suono che si illumina. Non è finita qua perché anche sul lato troviamo i radiatori passivi, i bassi che pompano, si muovono, vibrano, fanno un gran casino, fanno un gran movimento, insomma tutta bella illuminata. Ci sono tre modalità di pulsazione degli occhietti, quindi le deciderete voi, ve le farò vedere in questa recensione, insomma come si sente questa TronSmart Bang SE. Non vi resta che mettervi comodi e ascoltarlo in questa recensione completa. Questo è quello che troviamo nella confezione di ventita della nuova TronSmart Bang SE, o meglio la super cassa di cui andremo a fare la recensione, tracollina, quindi andiamo a agganciare queste clipettine qua e due e quindi sarà pronta per essere trasportata ovunque con facilità perché pesa due chili, nemmeno tanto e tutta la manualistica a cartellini vari. Vi faccio vedere una manualistica veramente ben fatta, soprattutto la parte colorata dove vi spiegano un po' tutto il funzionamento e come è composta la cassa. Andremo sul retro a vedere un po' gli ingressi e poi sempre in dotazione cavo AUX e un cavetto di ricarica USB-C, oltre a tutte le spiegazioni della tecnologia Sound Pulse, che è un cavallo di battaglia di TronSmart, è questo tastino qua che si preme e attiva una equalizzazione per un suono di qualità superiore. Essendo il suono soggettivo TronSmart vi dà la possibilità di attivarla o meno, quindi per ogni brano sentite un po' come suona, se meglio o peggio, con questo pulsante attivato. C'è il pulsante Power, pulsante Power che vi consente, premendolo una volta a ripetizione, di passare fra le varie modalità. Modalità di ascolto via Bluetooth, quindi collegato al vostro cellulare, modalità di ascolto tramite una microSD, oppure una pendrive, oppure tramite il cavo AUX in dotazione. Quindi tutte queste modalità vengono gestite da un pulsante. Poi abbiamo la tecnologia Sound Pulse, ve l'ho già detto, abbiamo il pulsante per aumentare o diminuire il volume, play, pausa e accoppiamento in gemellaggio. Quindi un'altra cassa Bang SE, non potrete usare un'altra cassa di un'altra marca, di un'altra tipologia, no, solo una Trosmart Bang SE. E questo è il pulsantino dell'illuminazione di questi driver. Quindi abbiamo tre tipologie di movimento di luci, alla fine, alla quarta pressione, tutto si spegne, quindi la cassa rimane attiva. Come potete vedere abbiamo la luce pulsante, ma non c'è illuminazione di questi occhi, di questi driver. Poi si ripreme e quindi si cambia colore a intermittenza, si va a fare un respiro, quindi vedete c'è questo movimento piano piano che si spengono come se fosse un respiro. E poi un movimento strano, passa da un colore all'altro, un occhio ad un colore, un occhio ad un altro, in maniera così random. E poi sul laterale ci sono i radiatori passivi che si muovono a ritmo di bassi e anche qui troviamo i LED. Quindi LED ovunque, sia sul frontale sia sul laterale. Ovviamente i colori riprendono laterale a frontale, non c'è alternanza, vedete, proprio si viaggia in sincronia perfetta. E poi questi LED si trasformano in base alla musica che ascoltate, quindi il movimento di LED corrisponde a un suono, un determinato suono. Vi continuo a far vedere altri dettagli della cassa. Siamo su una lunghezza di circa 30 centimetri e vi faccio vedere altri dettagli delle clipettine qua. La cassa è IPX di sesto livello, quindi resiste agli schizzi dell'acqua. Ma non la immergete, mi raccomando, se no le farete fare una brutta fine. Abbiamo qua un rivestimento fatto di gommini, quindi buono perché tengono ferma la cassa, non la fanno ballare, non la fanno vibrare. Insomma ve la tengono salda sulla superficie. E beh, qua il logo Tronsmart, la maniglia per trasportarla a giro. Insomma l'estetica è molto carina, classica cassa da viaggio da portarla ovunque. E vi faccio vedere anche la parte posteriore. Andiamo ad aprire questo sportellino che gli dà anche un po' la impermeabilizzazione dagli schizzi. E abbiamo il pulsantino di reset piccolino, c'è un foro dove dovete metterci una spillettina e lei si resetta. Abbiamo l'ingresso USB per collegarci una pendrive, quindi andare ad ascoltare i MP3 della vostra playlist preferita. E poi il cavetto di tipo C per la ricarica. Eccolo qua, quindi tac. E poi abbiamo l'ingresso AUX, è questo qui per andare direttamente con questo cavetto e l'ingresso delle micro SD. Voglio verificare una cosa, ho messo l'USB e il cavetto e come potete notare la cassa Bang SE fa anche da Power Bank. Non dovete attivare niente, non dovete fare nulla. La cassa manda in ricarica i dispositivi. Lo dichiarate fino a 24 ore interrotte di ascolto musicale. Secondo me ne fa molte meno, comunque dipende sempre dal volume che voi impostate. Se questa cassa 15 ore barra 18 ve le garantisce tranquillamente e poi potete ricaricare qualsiasi dispositivo. Ed è una bella cosa. Insomma, tanti dati tecnici, tanti numeri, tante cosine qua da vedere sulla cassa. Sì, ma voi mi direte, come suona? Come si sente questa cassa? Ecco, se avete delle pretese alte, o meglio se voi come punto di riferimento avete casse da 100-130 Watt, come ad esempio la Tronsmart Bang Max, ecco, lei suona un pelo peggio, ovvero la potenza è minore, i bassi sono inferiori, gli alti inferiori. Però se l'idea vostra è quella di sentire la musica in casa, non all'aperto, comunque in una stanza di 15-20 metri quadrati, siete da soli o comunque con 4-5 persone, la classica festicciola in casa, per intendersi, ecco, questa Tronsmart fa assolutamente bene. e vi faccio sentire come suona. Con questa Tronsmart Bang S, sarà possibile fare anche le telefonate grazie all'altoparlante e il microfono questa è la qualità percepita potente che si impugna bene tascabile abbastanza leggero ma sapete cosa è bello dei pixel tutto il mondo legato all'intelligenza artificiale bene amici siamo arrivati al capitolo finale il prezzo quanto costa la tron smart bang s e quanto costa 79 99 prezzo ufficiale su amazon si trova sempre intorno ai 70 euro euro più euro meno se pescate dalla cina su g buying ancora meno siamo sui 55 euro però bisogna essere bravi magari a trovarla vi lascerò comunque tutte le informazioni sotto rettangolo del video basta guardare qua sotto troverete link amazon e link per siti alternativi per portarla via al miglior prezzo vi ripeto una cassa intelligente bella da vedere con tante luci ve l'ho fatta vedere ve l'ho fatta sentire si sente bene anche in chiamata con questa amplificazione ve la consiglio per piccole festicciole in casa per 4 5 6 persone oppure da soli quando vi volete scatenare in camera con la vostra musica preferita fatemi sapere quello che ne pensate per me è una cassa valida soprattutto se trovate intorno ai 50 60 euro grazie per l'attenzione noi ci vediamo presto con nuove recensioni continuate a seguire me ma anche offerte smart italia su telegram su facebook tutti i link sono qua sotto per trovare le migliori offerte tecnologiche al miglior prezzo e io con questo vado ad ascoltarmi ancora un po di bella musica ciao ciao